Grazie a tutti. Ma soprattutto di avere Lucrezia Lante della Rovere qui con noi. Ciao, piacere. Ciao, piacere. Uh, prima oma, ci si sente fuori. Si sente tutto quello che diciamo. Si sente tutto. Oddio che imbarazzo. Ciao. Guarda, ci sto facendo anch'io l'abitudine. Non avevo capito. Va bene. Allora, siamo qui tutti insieme. Stasera presenterete il film. Raccontatemi un po' come vi è venuto in mente di fare questo film e di appunto parlare di Lucrezia. Raccontatemi, allora passo subito il microfono agli autori, agli registi, ai produttori, ai costumisti, agli ideatori. Innanzitutto vorremmo presentare i due registi. Esatto. Diamo la parola a Diego. Vai, inizio io. In realtà ci è sembrato un film doveroso. Ok. Tutte le volte che decidiamo di fare un film è fondamentalmente perché c'è qualcosa che non sappiamo noi e troviamo che quella cosa sia interessante. Diciamo che Lucrezia Borgia è uno di quei nomi nella storia di cui tutti, appena la sentono nominare, hanno un'idea immediata. Si può chiamare un'idea, un pregiudizio. Hanno un qualcosa nella mente. E quando poi la vai a studiare scopri che non è che non è proprio giusto, è che è proprio il contrario della verità. E su sta cosa, tra la verità e il suo contrario, tra il racconto della storia e la maldicenza, ci sembrava che si snocciolasse qualcosa di interessante da scoprire, ma allo stesso tempo di incredibilmente attuale. In un momento in cui tutti siamo un po' filtrati dai social, dal racconto di qualcos'altro o di qualcun altro, il confine tra verità e apparenza è sempre molto complicato. Per cui abbiamo detto, no, vabbè, la dobbiamo raccontare. E poi la domanda è stata, ma con chi la facciamo sta avventura? Perché io e Marco siamo proprio così. Lo facciamo? Ma sì, siamo quelli che quando vedono un muro ci vanno a sbattere contro. Per cui noi che ci pensiamo tanto. Sì, è bello. Però poi abbiamo detto, con chi? E con chi inevitabilmente... Grazie. E con chi inevitabilmente è con Lucrezia, che è stata una scelta felicissima. Noi ne siamo stati veramente entusiasti. Sia perché era un nostro mito, quindi soddisfi anche l'esigenza personale finalmente di conoscere un tuo mito. E poi Lucrezia, l'ante della rovere, non tutti forse sanno che il della rovere, Giulio II, il Papa, fu quello che cercò di distruggere i Borgia. Quindi ci è sembrata un'operazione doppiamente felice mettere insieme e far raccontare a Lucrezia, che è l'ante della rovere di questa Lucrezia di cui porta il nome, che è incantevole esattamente come Lucrezia, l'ante della rovere, e dopo secoli ricomporre una faida familiare che insomma ha delle incredibili. Un altro rinascimento, un rinascimento che sa di modernità finalmente. Quindi chiudiamo un ciclo, in pratica. Chiudete un ciclo. Posso raccontare come ho conosciuto questi due signori? Posso raccontarlo? Sono super curiosa. Allora, stava per finire il Covid, quindi ci si frequentava, io mi presentivo soltanto con gli amici che andavano, io sono canara, loro sono canari, e insomma le chiaccherano soprattutto con gli amici, vai al parco, insomma con gli amici del parco, di quelli che frequentano i parchi e che vanno a spasso con i cani. E un giorno mi chiama un mio amico e mi dice sono qui al parco con due miei amici simpatici, Alessandro Russo, mio carissimo amico anche ufficio stampa, e mi dice sono con due miei carissimi amici che vogliono fare un documentario su Lucrezia Borgia. Capirai. Io che mi chiamo e dico ah li voglio conoscere, insomma. Loro mi mandano un video, una video, cioè si sono presentati insieme, mi è arrivato questo video loro e che le si sono presentate in questo modo. E io da un secondo li ho chiamati dicendo vi voglio conoscere, sono pazza di voi. E così è iniziata la nostra avventura, perché poi ovviamente il tema di Lucrezia Borgia per me, io mi chiamo Lucrezia, è stato un nome che mi è pesato. Infatti ho fatto un po' di confusione. Particolarmente. Cioè da bambina non sapevo, quando mi vestivano da Lucrezia Borgia non sapevano chi fosse, quando sapevano chi era questa Lucrezia Borgia mi dicevano che era vestita da assassina, e comunque diceva mia madre ma perché mi ha chiamato Lucrezia Borgia? Insomma, questa Lucrezia Borgia era un fardello, un personaggio, un nome un po' pesante da portarsi dietro. Sì, poi in più io ero una bambina anche molto timida, non sembrerebbe adesso, però insomma lo ero. Quella bambina c'era. Quella bambina c'era, sì? E quindi l'idea di raccontare veramente chi è Lucrezia Borgia? E non con le bulgie, con... No, come dicevamo prima, Lucrezia Borgia se fosse stata un uomo le avrebbero fatto delle piazze, l'avrebbero incoronata. E questo è un film, è un docu film femminista, in cui si riporta a gala la verità di chi era questa donna, che è stata una donna vittima della sua famiglia, vittima di un padre, papa, avido di potere, vittima di un fratello sanguinario, vittima di una famiglia disfunzionale in un periodo storico in cui le donne non contavano niente. Già oggi facciamo tanta fatica, quindi partiamo da molto lontano per raccontare le donne, una donna speciale. Quando avete girato? Perché voi vi siete conosciuti durante il Covid, giusto? Io non ho il senso del tempo, quando abbiamo girato? Se vi siete conosciuti al parco... In questi giorni un anno fa. Un anno fa. Ah, un anno fa, quindi il Covid era già finito, avevate la possibilità di comunicare anche live. Io non faccio, no perché tu ho detto adesso mi chiederai, già lo so, io non faccio, non è che ho preparato Lucrezia, io racconto Lucrezia. Tu racconti Lucrezia. C'è un linguaggio abbastanza innovativo che hanno Marco e Diego, che mi ha molto affascinata, che mi ha molto divertita. non saprei come raccontarlo, pop, folle, loro appunto. La cosa divertente di questo mestiere è quello di raccontare delle storie e ognuno, ogni storia ha un suo vestito, un suo abito, ha una sua... e loro hanno il loro tipo di racconto che è molto unico, cioè loro, è proprio di Marco e Diego e io mi sono divertita a entrare nel loro mondo. Ma invece volevo chiedere a te in particolare, tu spazi dal teatro, al cinema, alla televisione, in cosa ti senti più te stessa, cosa ti regala più emozioni? Mi regala, io penso che questo lavoro sia l'incontro con delle persone, con delle storie, noi raccontiamo storie attraverso persone che hanno voglia di raccontarle, che hanno quel bisogno, quella necessità, quell'urgenza e quindi sono degli incontri che poi questi incontri siano in un teatro, che siano in un set televisivo, che siano in un'avventura folle come questa o al parco, per me non ha importanza. Quali cani avete? Giusto per capire. Io adesso ne ho due, loro ne hanno uno, però la cosa per me interessante di questo lavoro è incontrare delle persone che raccontano delle storie. Grazie mille. E volevo invece chiedere a tutti voi, è successo qualcosa di particolarmente divertente sul set? Un aneddoto che potete raccontare già, sento le risate, quindi sicuramente c'è qualcosa di speciale. Il set è un mondo a sé stante, veramente, di cose speciali ce ne sono tante. E' Francesco. Esatto, nel film ci sono, insieme a Lucrezia, ci fa piacere ricordarlo, c'è Tullio Solenghi che saluta tutti, ma è impegnato appunto a teatro con le prove, salutiamo Tullio. Ciao Tullio. E poi c'è Tobia De Angelis, poi c'è Francesco Zecca appunto che è stato con noi l'anno scorso sul set, ci ha fatto divertire da morire, ne ha combinate di tutti i colori, è un istrionico, lo vedrete nel film, diciamo è l'assistente di Lucrezia, è inciampato, è caduto, c'è una scena molto naturale. La cosa incredibile è che ogni tanto inciampava realmente, ma nessuno se ne preoccupava perché tre quarti della volta inciampava per finta, per cui ogni tanto si è spattasciato facendosi dei mali incredibili, ma noi lo lasciavamo lì tutti andavamo avanti tranquilli perché pensavamo fosse per finta, per cui ogni tanto faceva dei voli, ogni tanto no. Ma c'era anche Puck, Puck che è un cane, non un cane di attore. No, no, esatto, ci sono tanti attori cani nel mondo, ma noi invece abbiamo proprio un cane attore. Avete un cane attore? Assolutamente sì, ci fanno un sacco di... Un barbone gigante. Un barbone gigante. Sì, e poi abbiamo riunito i gemelli loggeri, ci sono Eraldo Turra e Luciano Manzalini, e poi Sipona Servini, Mirena Mastronardi, Dennis Berry. Dennis Berry e... No, no. Non volevi ancora? Sì. Ci sono io pure. Vabbè, recita pure lui, vabbè, se aveva recitato il cane poteva recitare anche lui. Ecco. Bene. allora, quindi cosa vi aspettate al pubblico ferrarese stasera? Siete, vabbè, siete state a Ferrara prima d'ora o... Sì, 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 io sono venuta qui parecchie volte anche con il teatro. Io ho visto, loro mi hanno fatto vedere il film quest'estate e si vede un'immagine di Ferrara, cioè si vedono tantissimi, cioè si vede Ferrara sempre perché è ambientato qua, ma si vede Ferrara col drone che passa da sopra e ho detto io sono rimasta incantata. È bellissima. Ho detto mamma mia che città... Non avete mangiato stasera? No. Non avete ancora mangiato? No. Questa domanda non la dovevi fare. Guarda, c'è anche il vino finto, finto. Qual è il tuo ristorante? Sì, sì. Quindi aggiungo anch'io che la nostra aspettativa rispetto... Parlo qui dentro. Parlo qui dentro che la nostra aspettativa è che la gente si diverta e che comunque che piaccia o non piaccia che comunque ne parli. Questo è il nostro motto che è una cosa bellissima. Però siamo sicuri che i ferraresi apprezzeranno perché è un film nel quale abbiamo cercato di restituire tutto l'amore che noi proviamo per questo territorio che è veramente bellissimo. Ferrara è veramente un unicum già in Emilia, Romagna perché fa parte di una regione senza far parte né dell'Emilia né della Romagna. Ci pensate mai? Ferrara non è toccata dalla Via Emilia quindi si distingue da Bologna, Modena, Parma, Piacenza e Ferrara ha i lidi estensi che sono in Romagna ma Ferrara no. No, no, no. Quindi è veramente... I ferraresi dicono che non vada a Romagna con il tuo accordo. Sì, beh, c'è sicuramente una grossa indipendenza di pensiero nei ferraresi che a noi ha affascinato tantissimo. Un grosso senso anche della cultura una grossa unicità perché poi ci pensate noi oggi stasera non abbiamo mangiato però abbiamo mangiato stasera, la sera prima abbiamo mangiato il pasticcio di maccheroni abbiamo mangiato la salama da sugo non si può non mangiare quando si viene a Ferrara e abbiamo apprezzato tutte cose che si apprezzano esclusivamente a Ferrara. Ma da quanti giorni siete? Sono tre giorni che siamo in giro. Sono tre giorni che non siete fatti ancora vedere. Ma faccio fare una domanda io a te. Sì, certo. Cosa sei tu di Lucrezia Borgia? Io? Oddio, adesso mi stai facendo una domanda veramente difficile. No, ma cosa c'è? Che cosa ti... Tu dici Lucrezia Borgia. Ti vorrei dire una... Che ti viene? Cosa ti viene? Una stronza. Una stronza. Bravo. Ecco. Una stronza. Noi abbiamo... Non volevo dire una missione. Questa abbiamo raccontato un genio. Un genio. Grazie mille ragazzi. Non vediamo l'altro vedere il vostro film. DocuFilm. DocuFilm femminista. DocuFilm femminista. Grazie e ci vediamo a teatro. Grazie a voi. Grazie. Grazie a tutti.